La congiura dei Pisoni fu un evento devastante perché travolse molti personaggi illustri determinandone una morte violenta, coinvolgendo le famiglie anche dei congiurati stessi che furono sterminate ma segnando anche gli anni successivi che furono gli ultimi anni del regno di Nerone perché Nerone diffidò di tutti, si fidò soltanto del prefetto del pretorio Tigellino, uomo crudele e spietato che spesso perpetrò anche vendette personali o eliminò persone con accuse inconsistenti. I congiurati che appunto ne presero parte lo fecero per diverse ragioni. C'era un gruppo che si opponeva a Nerone e avrebbe voluto un imperatore diverso. C'erano poi coloro che invece aderirono perché mal sopportavano Tigellino sia perché spietato e senza scrupoli ma anche perché di umili origini e quindi c'erano militari che gli obbedivano con insofferenza. Poi c'erano gli oppositori della tirannia, uomini di formazione stoica ancora nostalgici della res pubblica. La congiura iniziò ad essere preparata già nel 62 d.C. ma l'obiettivo di uccidere Nerone presevo nel 65 d.C. Il piano prevedeva di agire a fine aprile in occasione dei giochi per la festa di Cerere e il luogo scelto era il Circo Massimo. Se il piano fosse riuscito si ipotizzava o di sostituire Nerone con Pisone, un esponente aristocratico che aveva l'appoggio dell'aristocrazia senatoria. Altri invece avrebbero voluto affidare la gestione a Seneca in quanto uomo capace di restaurare la res pubblica e Seneca aveva anche il sostegno di alcuni centurioni e militari. Infine altri sostenevano Fenio Rufo, un prefetto del pretorio che si opponeva a Tigellino e che era sostenuto da un gruppo di militari. Il piano fallì. Cause furono varie. Intanto il primo segnale venne da Volusio Proculo, un ufficiale della flotta del Miseno, che era stato trascinato nella congiura dalla congiurata Epicari, una liberta. Volusio però svelò il piano a Nerone, ma non era a conoscenza dei nomi. I nomi e quindi le prime prove per poter procedere ad un'inchiesta vennero invece da Milico, un liberto del senatore Scevino che svelò il nome del padrone, quindi tradì il padrone, ma fece anche il nome di un altro congiurato, il cavaliere Antonio Natale, e fece questa delazione la notte prima che il piano scattasse. Quindi arrestarono Natale e Scevino. Natale, torturato, promise di fare il nome in cambio però della garanzia del perdono. E così denunciò Seneca e Pisone. Scevino fece il nome di altri congiurati. A questo punto ebbe luogo l'inchiesta. I congiurati vennero arrestati e torturati. Un gruppo fra cui Epicari ed altri anche sotto tortura negarono ed Epicari addirittura morì sotto tortura. Lucano invece cedette subito e arrivò a denunziare persino la madre. Pisone invece fu ucciso insieme ad altri e la sua famiglia fu sterminata. Altri come Seneca ebbero l'ordine di suicidarsi. e invece congiurati che però vennero considerati innocui furono mandati in esilio. Antonio Natale ebbe il perdono promesso mentre Milico, il servo che aveva appunto svelato il piano, non ricevette dei doni e il titolo di Salvatore. Le conseguenze furono appunto molto pesanti perché i rapporti fra Nerone e l'aristocrazia si irruppero. Nerone diventò molto sospettoso e si fidò soltanto di Tigellino che quindi ebbe mano libera per agire contro chiunque fosse colpito da sospetto, anche con prove inconsistenti. E furono moltissime le vittime dell'ultimo periodo di Regno di Nerone, fra cui Petronio. della morte di Petronio ce ne parla Tacito di Annales e presenta così la morte di questo illustre personaggio che i critici hanno identificato come l'autore del Satiricon. Decaio Petronio tenda sunt supra pauca. Su Petronio si devono richiamare prima poche cose. Nam illi dies transigebatur per somnum. Nox transigebatur officis et oblectamentis vite. Infatti da lui il giorno era trascorso nel sonno, la notte con compiti e piaceri della vita. Et ut industria protulerat alios ad famam, i ignavia protulerat unc ad famam. et non abebatur ganeo et profligator ut plerique aurentium sua, sed erudito luxu. quindi e come queut e come industria l'operosità protulerat aveva portato ad famam alla fama alios altri, ita così ignavia l'indolenza protulerat aveva portato ad famam alla fama unc lui. Que abebatur ed era considerato non ganeo non carapulone et profligator et scialacquatore, ut come sottinteso abentur sono considerati l'erique i più aurentium di coloro che dilapidano sua, i loro patrimoni, sed ma sottinteso un uomo, era considerato un uomo, erudito luxu di gusto raffinato. ac dicta et facta eius quanto erant soluziora et preferentia quandam neglegentiam sui tanto gratius a cipiebantur in speciem simplicitatis. quindi e le sue affermazioni e azioni quanto più sottinteso erant è sfrenati soluziora et preferentia esibitori quandam neglegentiam sui di una certa non curanza di sé, tanto gratius tanto più erano accolti a cipiebantur con gradimento, quindi questo gratius sarebbe più con gradimento, quindi tanto più erano accolti con gradimento, in speciem nell'apparenza simplicitatis di spontaneità. tamen proconsul bitinie et mox consul ostendit se vigentem ac parem negozis e pari ai compiti, quindi all'altezza dei compiti. Dein revolutus ad vizia seu imitazione viziorum ad sumptus est inter paucos familiarium neroni arbiter eleganzie quindi Dein, poi quindi revolutus tornato ad vizia ai vizi seu o piuttosto sempre revolutus riportato imitazione per imitazione per ostentazione viziorum dei vizi ad sumptus est fu ammesso inter paucos fra i pochi, quindi nella cerchia familiarium dei degli intimi neroni di nerone l'aggettivo regge il dativo, quindi degli intimi di nerone arbiter eleganzie come arbitro di eleganza del buon gusto doom, mentre sottinteso nero, quindi nerone putat riteneva ad fluenzia per sazietà, per abbondanza riteneva nulla quindi mentre nerone non considerava per sazietà niente niente amenum piacevole et molle errati nisi quod se non ciò che ei per lui avesse approvato petronius petronio un unde invidia tigellini quasi adversum adversus emulum et poziorem scienzia voluptatum quindi da dove sorse derivò invidia tigellini di tigellino quasi adversus emulum quasi nei confronti di un rivale et poziorem è di uno più esperto scienzia nella conoscenza voluptatum dei piaceri ergo ad graditur crudelitatem principis cui cetere libidines cedebant obiectans petronio amiciziam scevini corrupto servo ad indicium et adempta defensione et rapta maiore parte famiglie in vincla allora qui abbiamo tre ablativi assoluti coordinati fra di loro corrupto servo adempta defensione rapta maiore parte il soggetto della frase principale non è espresso ma è tigellino quindi ergo dunque sottinteso tigellino ad graditur tenta crudelitatem la crudeltà principis dell'imperatore cui alla quale cedebant si sottomettevano cetere libidines gli altri piaceri obiectans metriando petronio a petronio amiciziam scevini l'amicizia di scevino diremmo meglio l'amicizia con scevino corrupto servo ad indicium corrotto uno schiavo per la prova d'accusa è adempta comprata defensione la difesa è rapta in vincla trascinata in carcere maggiore parte famiglie la maggior parte della servitù sarebbe di petronio forte illis diebus cesar petiverat campaniam et petronius progressus usque cumas attinebatur illic nec tulit ultra moras timoris south south spei quindi forte per caso illis diebus in quei giorni cesar l'imperatore petiverat si era diretto o meglio si era recato campaniam in campania et petronius e petronio progressus spintosi usque cumas fino a cuma attinebatur illic si tamen preceps expulit vitam sed ut libutum aperire benas incisas obbligatas rursum et adloqui amicos non perseria aut quibus pet gloriam constanzie quindi né quetamen né tuttavia a precipizio renderlo precipitosamente expulit vitam caccio via la vita letteralmente né tuttavia caccio via precipitoso sed ma aperire rursum apriva di nuovo ut libutum a piacere benas incisas le bene recise obbligatas fasciate legate et adloqui amicos e parlava con gli amici non per seria non di cose serie aut quibus o con le quali aspirasse gloria ma la gloria constanze della fermezza et audiebat nil referentis da immortalitate anime et placitis sapientium sed audiebat levia carmina et facilis versus facilis sta per faciles quindi et cennil per cui mettiamo la negazione e non ascoltava niente di 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 chi di ciò che parlava di ciò che riguardava l'immortalità dell'anima e le massime dei sapienti ma sempre audiebat quindi ascoltava poesie disimpegnate e versi leggeri adfecit largizione alios servorum adfecit verberibus quosdam qua il verbo adficio collaborativo meglio renderlo con un'unica forma verbale quindi ehm elargì ad alcuni tra i servi stessa cosa per adfecit verberibus quindi fece bastonare altri ehm di loro init epulas indulcit somno ut mors quam quam coacta esset similis fortuite quindi partecipò al banchetto indulsa nel sonno ehm affinché la morte benché obbligata esset fosse similis simile fortuite a quella accidentale nec quidem adulatus est neronem aut tigellinum aut quem alium potentium codicillis quod plerique pere uncium sed perscripsit flagitia principis sub nominibus ex ex olegi et feminarum et sempre perscripsit novitatem cuiusque stupri et misit ob signata neroni quindi nec quidem neppure adulatus est adulò ehm nerone aut tigellinum o tigellino aut quem stapperaliquem alium o qualche altro potentium dei potenti codicillis con postille quod cosa che sottinteso fanno plerique pere uncium molti dei moribondi di coloro che muoiono sed ma perscripsit descrisse dettagliatamente flagitia le infamie principis dell'imperatore sub nominibus sotto i nomi exoletorum degli amasi et feminarum e delle donne et sempre perscripsit quindi descrisse nei particolari novitatem la stravaganza cuiusque stupri di ciascun atto sessuale et misit obsignata e le mandò sigillate neroni a neroni et fregit anulum ne mox esset usui ad facenda pericula e fregit ruppe anulum l'anello ne affinché non esset fosse mox in seguito usui di utilità ad facenda pericula per arrecchere accuse allora la morte di Seneca e la morte di Petronio rappresentano la morte di due personaggi eccellenti e due personalità anche molto diverse la cui morte le rispecchia Seneca vive la sua morte coerentemente alla sua filosofia di vita quella stoica per cui negli ultimi momenti della sua vita conversa su questioni di carattere filosofico sulla esistenza umana esorta alla fermezza la moglie e gli amici che gli stanno accanto e richiama gli antichi precetti coltivati per tutta la vita la morte appare come la prova estrema della costanzia intesa non solo come fermezza ma anche come coerenza rispetto alla vita vissuta e lui la affretta perché a un certo punto il flusso del sangue è troppo lento e quindi si fa immergere nell'acqua calda e tutta diciamo la vicenda della sua morte appare come quell'evento estremo in cui appunto si è messi alla prova una prova di costanzia ma è anche un evento a cui il sapiens deve prepararsi per tutta la vita come più volte nelle sue opere aveva detto in Petronio invece la morte viene vissuta con la stessa ironia e apparente leggerezza che caratterizza il personaggio anche perché se se Petronio come ormai i più sostengono è l'autore del satiricon ben si comprende il suo approccio alla vita cioè la capacità di guardare con distacco ironico e ridere delle miserie e così Petronio affronta la morte perché è costretto lo fa nel momento in cui comprende che non c'è un'alternativa lo fa con con coraggio ma appunto non non precipita gli eventi lui mostra di apprezzare la vita e lo fa fino all'ultimo momento per cui trascorre gli ultimi istanti della sua esistenza tra le gioie più come dire più effimere più semplici il banchetto le poesie leggere la conversazione amena con amici e ne gode fino all'ultimo istante la la morte la vuole affrontare come se fosse un evento naturale e così fa in modo che arrivi quasi diciamo all'improvviso vendando e allentando le fasce attorno alle vene recise lui però fino alla fine appunto è un uomo con tutti i suoi sentimenti e questo lo si vede nei confronti degli schiavi punisce alcuni e benefica altri e poi perpetra la sua vendetta nei confronti di Nerone rinfacciandogli tutto ciò che di più turpe ha fatto e impedendogli di di vendicarsi di vendicarsi anche trasversalmente tanto che distrugge il suo anello di sigillo in maniera tale che non venga utilizzato in maniera strumentale attribuendogli magari accuse che lui non ha fatto e recando anche danno a persone innocenti di di a a a Grazie.